bruno dicevamo costankovic giornata no oggi a zerare tutto ripartire la gara 2 si proprio noi tutti diciamo fondamentali in tutti in tutto diciamo il gioco no sia la questione della testa mentale sia la questione diciamo tecnica che proprio oggi non siamo riusciti a ad avere nessun momento della partita e per questo ripartire da capo è sotto 1 a 0 però domenica abbiamo gara 2 servire analizzare cosa non ha funzionato oggi questi giorni ma secondo me dire così non ha funzionato niente è difficile di dire se qualcosa è funzionato per questo dobbiamo solo pensare a giocare il nostro gioco sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte però noi dobbiamo giocare 1 a 0 per usa nella serie ma non è finita si arriva a 3 no no sicuramente questo è una cosa sicura che noi non moleremo di nessun di niente dobbiamo a zerare questa cosa e partire per gara 2 domenica palasport che si preannuncia già sold out i tifosi saranno con voi sì sì questo è sicuramente è una cosa importante mi dispiace per quelli che sono venuti fin qua oggi ci hanno visto fare una prestazione bruttissima mi dispiace per loro che domenica loro possano stare con noi di fianco e che possiamo ritrovare la nostra della squadra